Fileni BPA contro Brindisi, martedì 21 febbraio alle 21 in inedito posticipo per la diretta TV Rai Sport per tentare di mettersi alle spalle il fresco amaro della sconfitta al photo finish con Scafati e provare a riprendere il passo in questa strana fase del campionato di Lega 2. Nella serata di carnevale al Palatriccoli arriva Lennel Brindisi, squadra che in classifica viaggia al ridosso del tris di prime e che con i due punti a Iesi aggancerebbe il trio Reggio Emilia Pistoia Scafati. Dopo la domenica alla finestra in attesa dei risultati degli altri la Fileni BPA dal canto suo si è ritrovata scivolata ai margini della zona playoff. Battere Brindisi significherebbe recuperare posizioni ed agganciare a quota 18 punti Ostuni e Piacenza. Iesi ci prova confidando su di un Ryan Hoover in ulteriore recupero dall'infortunio alla caviglia dopo i 13 minuti senza poter spingere contro Scafati e nella rabbia accumulata con l'ultimo stop. Da segnalare l'iniziativa lanciata dalla società Aurorina tenuto conto che dopo Brindisi, la successiva trasferta di Pistoia e poi la Final Four di Coppa Italia di Bari anche il ritorno al Palatriccoli dell'11 marzo contro la fortitudo Conad Bologna sarà in orario inedito a mezzogiorno. E dunque chi martedì sera acquisterà il biglietto al Palatriccoli per Fileni BPA e nel Brindisi conservandolo potrà poi avere per la gara dell'11 marzo un tagliando nello stesso settore pagandolo solo 5 euro. Stessa possibilità anche per gli abbonati. Un biglietto a 5 euro presentando al botteghino la tessera domenica 11 marzo. Tornando a Brindisi è il secondo consecutivo squadrone che il calendario pone davanti all'Aurora in questa fase complicata. Servo un colpaccio per tornare a gioire al Palatriccoli. Palla 2 alle 21 arbitri Mauro Moretti di Marsciano, Lorenzo Baldini di Firenze e Paolo Bertelli di Genova.